cari amiche e cari amici sul decimo toro 2 troverete un intervento molto interessante di alessandro meluzzi sull'islam chi non è iscritto al decimo toro 2 si iscriva vi metto qui sotto il link in descrizione e vi riporta al canale il decimo toro 2 e lì troverete anche il video di alessandro meluzzi sul canale ho trovato del post molto aggressivi di persone che mi hanno segnalato le un video su questo canale dove siete adesso il decimo toro 1 dei pervertiti non faccio il nome li chiamo semplicemente dei pervertiti uno di questi scriveva quelli di cui parlavi nel video che si infilavano il crocifisso nel immaginate voi erano miei venici te la faremo pagare riusciremo a farti chiudere il canale questa gente sono dei pervertiti blasfemi è un onore avere come nemici riusciranno a farmi chiudere il canale può essere anche di sì per questo vi invito in ogni caso ad iscrivervi al decimo toro 2 mi raccomando il link è qui sotto in descrizione e godetevi il interessante intervento di alessandro meluzzi un caro abbraccio a tutti marco cosmo